Secondo recenti indiscrezioni, Jenny Guardiano e Tony Renda potrebbero essere candidati per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, che avrà inizio a settembre su Canale 5. Jenny e Tony nel Grande Fratello. Quest'anno, Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra i protagonisti di Temptation Island, catturando l'attenzione del pubblico di Canale 5 sin dal primo episodio. Il loro percorso nel reality show ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, seguendo con grande interesse le evoluzioni del loro rapporto. Tuttavia, durante il falò di confronto finale, è avvenuto un evento inaspettato che ha sorpreso tutti. Nonostante i tentativi di avvicinamento con diverse tentatrici, Tony ha capito di essere ancora innamorato di Jenny e le ha chiesto una seconda opportunità. Inizialmente, Jenny sembrava decisa a non perdonare Tony, ma grazie anche al supporto di Filippo Bisciglia, ha scelto di dare una nuova chance alla relazione. Così, la coppia ha lasciato insieme il programma. Attualmente, sembra che il loro rapporto stia proseguendo positivamente, ma una nuova notizia ha riportato Jenny e Tony sotto i riflettori. Amedeo Venza, esperto di gossip, ha rivelato che dopo l'esperienza di Temptation Island, Jenny e Tony avrebbero espresso il desiderio di partecipare al grande fratello. Secondo le voci, i due avrebbero già preso contatti per un colloquio con gli autori del programma. Anche se non ci sono conferme ufficiali su eventuali sviluppi. Inoltre, sembra che Alfonso Signorini e il suo team stiano considerando diversi ex concorrenti di Temptation Island per il nuovo cast del grande fratello. Tra i nomi in lizza ci sarebbero Alessia Pascarella, Lino Giuliano, Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Sarà interessante vedere chi entrerà nella casa e come si evolveranno le dinamiche del programma. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.